Una forma innovativa di guardare al vino così legato al nome del comune di Carosino. Infatti è stato presentato il progetto Visioni di vino di Carus Teatro. L'iniziativa si terrà a Carosino dal 9 agosto al 18 ottobre. Gli organizzatori attraverso il teatro e il cinema intendono far riflettere la comunità locale su tematiche di grande importanza, quali l'agricoltura, il lavoro, l'enologia e soprattutto l'ambiente. Il sindaco Di Cillo è il titolo che impersonifica Carosino sotto tutti i punti di vista. Un plauso a Carus Teatro che è riuscito ad intercettare questo bel finanziamento da parte della regione Puglia. Non solo teatro ma cultura a 360 gradi. Per quello che ci riguarda siamo partner di questa iniziativa. non faremo mancare il nostro apporto a tutte quelle che saranno le iniziative culturali ma soprattutto Carus Teatro merita la nostra attenzione per tutto quello che sta facendo sul nostro territorio. Si inizia il 9 agosto con la commedia Siccità. La tematica, l'ambiente. Il direttore artistico di Visioni di vino Davide Rosselli. Visioni di vino è un progetto finanziario da Puglia Capitale Sociale organizzato da Carus Teatro. Si svolgerà presso l'atrio del castello da Iala Valva di Carosino. Saranno 9 eventi in totale, 4 serate teatrali e 4 serate cinematografiche. Il 25 agosto è in programma Bacco in Masseria, ingresso gratuito nella Masseria Misicuro verso Francavilla Fontana sulla strada Appia appena dichiarata Patrimonio dell'Umanità Unesco. L'evento un gustoso prologo alla Sagra del Vino in programma fine agosto. In questo momento che la Via Appia è diventata Patrimonio dell'Unesco, tutte le tematiche sia degli spettacoli teatrali, di grandi artisti pugliesi e lucani e sia le serate di proiezione cinematografica saranno su queste tematiche.